Io sono Massimo Cammarota, sono un funzionario commerciale, sono sette anni che seguo la zona di provincia di Pesaro, provincia di Ancona. Il mio lavoro è molto dinamico e divertente, perché comunque sono sempre a contatto con persone, persone nuove, quindi riesco a utilizzare la mia voglia di fare con i miei clienti, che poi sono la cosa più importante per il mio lavoro. Cosa apprezzo di più del brand Urme? Sicuramente la storicità. È un'azienda che quest'anno compie 85 anni ed è un'azienda completamente italiana. Per me è un vanto ed è un vanto che io faccio notare anche ai miei clienti. Sicuramente per un fatto di storicità, perché comunque l'ambiente del materiale elettrico, comunque della costruzione è storicamente un settore che è stato sempre gestito da una parte maschile. Anche se comunque adesso sto notando che la presenza femminile sta cominciando a crescere in maniera molto positiva. Pagherei di più i commerciali. Il nostro direttore comunque ha capacità abbondanti per darci delle indicazioni di percorso che ci danno poi soddisfazione a noi e all'azienda. La visione ne vedo veramente poca. Quando rientro a casa, famiglia, cena e il benedetto divano. La magica Roma. E lì non ci sono discussioni.